Abbiamo una luce di traffico e una carta nero. Vi mostro due strade per mostrare che sono obiettivi normali. Ok, abbono l'aria. Ho eliminato la luce di traffico e lo metto nella tua mano. Ora prendo la carta nero e lo metto nella tua mano. Ora prendo un colore dalla luce di traffico, per esempio il verde, e lo metto nella carta nero. Lo metto nella carta nero e potete vedere che il colore verde è passato misteriosamente sull'altra parte. No, non lo credo, è impossibile.